Quante volte abbiamo parlato di quanto il coronavirus incida su ogni aspetto della nostra vita, sul nostro lavoro, su qualunque nostra attività, ma quanto invece sappiamo di questo momento e dell'impatto che ha l'isolamento, ma anche l'insicurezza economica sulle relazioni familiari e sulle violenze familiari? Oggi ne parliamo con Gianettore Gassani, Presidente dell'Associazione dei Matrimonialisti Italiani. Grazie per essere con noi oggi a Checkpoint. Buongiorno, grazie a voi. Ripartiamo proprio da un libro, un libro che nasce proprio durante il lockdown, nasce durante l'isolamento sociale, il confinamento, racconta storie di prima e durante il coronavirus, storie di crisi e di violenza familiare. Sono storie molto vere, di vita reale, ovviamente con nomi di fantasia. Avvocato, quanto questi lunghi mesi di restrizioni che si raccontano appunto nella guerra dei Rossi hanno inciso sul fenomeno silenzioso intanto delle violenze in famiglia? Possiamo dire che c'è stata sicuramente un'emergenza familiare in questo periodo, di cui forse si è parlato molto poco, ma quello che ho potuto constatare come avvocato e l'ho scritto in questo libro è stato qualcosa di terribile. L'aumento delle violenze intrafamiliari si calcola intorno al 70%. C'è stato un aumento delle violenze nei confronti dei minori, parlo della violenza assistita, il 15% in più dei femminicidi e addirittura il 30% in più, meglio 30.000 separazioni in più rispetto al 2019. Se a questo aggiungiamo poi tutta una serie di violenze non refertabili dai pronto soccorso, ci rendiamo conto di quanto il pianeta famiglia sia stato colpito dal coronavirus. Io parlo di storie precedenti, ma anche contemporanei al coronavirus, dove io come avvocato, pur essendo i tribunali chiusi, ho continuato a lavorare. Mi sono inventato un nuovo modo di fare l'avvocato. Come si reinventa in questo momento il lavoro di avvocato? Lei racconta in queste storie che sono davvero molto toccanti, che ci danno davvero la sensazione di quanto sia radicato il profondo e anche drammatico il fenomeno. Racconta per esempio la storia di una donna che aveva grossissime difficoltà a contattarla perché viveva con una persona che la maltrattava a casa e anche la sua difficoltà a riuscire a mettersi in contatto. Tanto che vi siete per esempio incontrati di nascosto davanti a un supermercato. Come è cambiato il suo lavoro quotidiano? Beh, è cambiato in questo modo. I tribunali sono rimasti chiusi, ma noi avvocati abbiamo continuato a lavorare. Siamo stati pronto soccorso legale. Ho incontrato questa donna davanti al supermercato e mi ha raccontato tutte le violenze che aveva subito. Sono riuscito a depositare un ricorso, ma abbiamo avuto tantissimi casi di questo tipo. Per cui anche l'avvocatura ha fatto la propria parte, ma conosco casi in cui le donne non hanno dovuto neanche il coraggio di denunciare, nonostante abbiano subito lesioni di ogni tipo, sia nell'anima che nel corpo. Il mio non è un saggio, il mio è un insieme di piccoli romanzi e di storie vere. E racconto anche i disagi di bambini che hanno chiesto aiuto. E il coraggio delle forze dell'ordine. Purtroppo siamo stati in una situazione tremenda. Il pianeta famiglia in questo momento sta attraversando un momento molto difficile, anche perché considerate che ci sono ancora 10.000 coppie che attendono giustizia. Cioè coppie che attendono con giudice si prendono cura del loro caso. C'è un lockdown che continua per molte coppie. Ed ecco perché le violenze stanno aumentando a dismisura. C'è un'emergenza non solo sanitaria ed economica, ma familiare da far paura, soprattutto in Italia. Questo va detto senza mezzi termini. Le donne restano comunque dei soggetti assolutamente vulnerabili in questa fase della nostra storia. Ecco, per capire questo fenomeno le chiedo un aiuto in più. Perché quando la casa diventa una prigione, e farei con lei anche un ragionamento di comunicazione, quanto possiamo fare di più e quanto possiamo migliorare la nostra comunicazione sul fenomeno, quando la casa diventa la prigione si ha la sensazione che i numeri non soltanto non bastino per spiegarlo, ma possano essere forbianti. Per esempio, se si analizzano i dati che sono stati forniti in alcuni casi dai centri di assistenza e le donne maltrattate, si vede che c'è stato un calo all'inizio del lockdown delle chiamate. Ma questo non significa che non ci sia stato il fenomeno delle violenze. Significa che semplicemente era molto più difficile mettersi in contatto con qualcuno che potesse aiutare queste donne. Al contrario, per esempio, un aumento delle denunce non significa che il fenomeno stia aumentando, ma magari che ci sia soltanto una maggiore consapevolezza. Ci aiuta lei a capire come si fa ad avere una visione complessiva di questo fenomeno che va dal di là e oltre l'aspetto statistico, che aiuta ma a volte non è sufficiente? I centri di violenza hanno diramato delle estime assolutamente attendibili e padrono del 70% di aumento, ma spesso e volentieri la vittima, soprattutto in una situazione come quella del lockdown, in cui si è vissuti molte volte in 70 metri quadri sotto lo stesso tetto, ha paura di denunciare. Perché purtroppo, diciamoci le cose come stanno, il 54% delle donne che sono state brutalmente assassinate dagli assassini di casa, che hanno quasi sempre le chiavi di casa, avevano già sporto denuncia, avevano chiesto aiuto, siano rivolte all'avvocato, siano rivolte alla magistratura. Il Codice Rosso non è riuscito in molte occasioni, in molte realtà, a risolvere questa questione, a prevenire la violenza. Per cui molte donne anche hanno paura di denunciare. Ed è questo il messaggio che io lancio nel mio libro. Non bisogna avere paura, bisogna giocarsi la vita. Non bisogna subire violenze infinite. Per cui il fatto che ci siano state meno denunce nei primi tempi, non rileva rispetto all'analisi che ho fatto nel libro e che fanno i centri antiviolenza. Le donne hanno paura. Noi dobbiamo tutelarle. Non basta inaspire il Codice Penale, ma dobbiamo soprattutto monitorare, dopo la denuncia, la vita di queste donne. Perché se la denuncia si trasforma in uno condannato a morte, è chiaro che è il sistema che esce sconfitto. E non soltanto una donna viene uccisa. Lei, Avvocato, ha toccato un tasto molto importante. C'è la necessità che le donne trovino il coraggio di denunciare. Nonostante in alcuni casi, e lo racconta in queste storie che lo voglio ricordare, sono davvero molto toccanti, in alcuni casi sia davvero difficile. Però, Avvocato, ci sono dei problemi che sono all'origine, che ancora restano. C'è la difficoltà, per esempio, già delle donne di occupare dei ruoli nella società. La difficoltà delle donne di avere un'autonomia economica, un'autonomia abitativa delle donne per inserirsi, a differenza degli uomini, in certi contesti. Allora, le chiedo di più, al di là delle leggi, lei ricordava il Codice Rosso, c'è da fare molto su questo ancora, ma non si dovrebbe intervenire anche con delle politiche attive di sostegno alla donna e alla famiglia? Assolutamente sì. La donna è schiacciata in Italia dal predominio maschile, perché soltanto nel 5% dei casi le donne occupano posti apicali. La donna è schiacciata a pulizia degli stipendi, delle attività lavorative. Se mette al mondo un figlio viene messa da parte. La donna italiana è purtroppo una donna che vive ancora in una situazione medioevale della società. Ed ecco perché poi non ha capacità e forza anche economica di difendersi, di scappare, soprattutto in certe regioni. Non è soltanto il gesto estremo che ci deve preoccupare, ma le ragioni per le quali si arriva al gesto estremo e per le quali le donne non denunciano. Dobbiamo liberare le donne. Non basta soltanto varare leggi a costo zero. Dobbiamo investire anche in una nuova cultura, perché se non abituiamo i ragazzi, i maschi, già da quando iniziano a camminare, a rispettare l'altro sesso, a capire qual è l'amore, cosa sia l'amore, se non abituiamo le donne a difendersi, a capire che uno schiaffo non può essere mai un gesto d'amore, se non cambiamo il linguaggio, anche i titoli dei giornali, noi non usciamo più fuori. Perché ho capito che la questione è soprattutto culturale. Io quando interrogo qualche assassino o interrogo qualche uomo violento, mi rendo conto che dalle sue risposte la questione è culturale. Lui pensa che la donna sia un oggetto, sia un territorio da tutelare, da conservare. Non ammette, nella maniera più assoluta, che la donna possa dire basta. Abbiamo abrogato dal codice penale il delitto d'onore, ma non l'abbiamo abrogato dalla cultura di molti italiani. Bisogna fare molto, anche sulla fronte della comunicazione, la ricordiamo anche per avercelo fatto presente. Bisogna supportare la donna sotto tanti aspetti. Lei ricordava come è cambiato il suo lavoro. Io approfitto anche per ricordare che è cambiato molto anche il lavoro per chi opera nei centri antiviolenza, che si è dovuto trovare ad aiutare le donne in difficoltà a distanza, con grandi problematiche. Le chiedo se secondo lei c'è un riconoscimento adeguato dei centri antiviolenza, se si può fare di più per dare un sostegno a chi opera per salvare queste donne? I centri antiviolenza sono stati abbandonati in molti casi. Noi abbiamo varato il codice rosso, ma è un codice rosso a costo zero, cioè che non ci sono finanziamenti per potenziare i centri antiviolenza, per aiutare i magistrati che sono in prima linea, per aiutare le forze dell'ordine. Per cui i centri antiviolenza sono un presidio di legalità e di salvezza, ma molti stanno veramente in difficoltà, non hanno più fondi, per cui è inutile fare rifiaccolate per le donne che sono state uccise. Cominciamo a investire veramente per prevenire violenze infinite che ci sono nelle case di italiani e non solo in Italia, purtroppo vedo che anche in Europa la situazione non è certamente tranquilla. Dei soldi sono stati promessi, insomma staremmo a vedere se quando arriveranno. Intanto le chiedo come si fa, secondo lei, a recuperare il carico di lavoro che non è stato svolto dai tribunali. Questo che conseguenze potrebbe avere? Queste sono conseguenze tragiche che stiamo toccando con mano. Io non so quanto tempo ci vorrà per evadere tutte le cause che sono rimaste congelate durante il lockdown. Io credo che la politica debba dare una grossa mano alla magistratura. Pensate che i magistrati sono 2.000 in meno rispetto alla pianta organica fisiologica. Questo non può essere consentito in un paese normale. Purtroppo l'Italia da questo punto di vista è in grande difficoltà. La giustizia non è certamente l'oggetto della grande attenzione. Se abbiamo meno magistrati, meno poliziotti, meno carabinieri, centri di violenza stanno chiudendo, come facciamo a tutelare le donne e i bambini? Perché anche i bambini purtroppo sono vittime di violenze inaudite nelle famiglie. E allora concentriamoci anche sulla situazione dei bambini. Parlavamo del tempo purtroppo che si perde a causa dei ritardi dei tribunali. Lei vorrei ricordare che tempo non ha perso perché in questo periodo non soltanto ha continuato a lavorare ma ha scritto questo libro e tra l'altro ha contribuito anche a scrivere una mini enciclopedia del diritto della persona e della famiglia. Vorrei ritornare con lei sul tema dei diritti della famiglia perché si racconta anche che sull'affidamento dei figli i padri secondo le storie che le stesse racconta sembrano essere penalizzati non tanto dalla legge, forse ancora una volta torniamo sul concetto dei pregiudizi. Come mai? Perché in effetti noi siamo un paese ingessato dai pregiudizi perché pensiamo che tutti i padri siano uguali e tutti i padri non siano in grado di ribadare i figli. Non è vero. Io posso testimoniare che ci sono padri che hanno assolutamente un istinto addirittura materno e sono capaci di vicariare anche il ruolo delle mamme. Dipende. Bisogna sempre valutare caso per caso. Io credo che l'affidamento condiviso sia stata un'altra legge tradita del nostro paese. Noi l'abbiamo introdotta semplicemente perché abbiamo dovuto seguire tutto ciò che avveniva in Europa e abbiamo dovuto rispettare ben due convenzioni internazionali che ce l'hanno imposto. La convenzione di New York e di Strasburgo che parlano di bigenitorialità e di diritto dei minori ad avere due genitori anche in caso di separazione e divorzio. Ma abbiamo fatto le leggi ma dobbiamo fare gli italiani sia sul versante della violenza contro le donne sia sul versante delle strumentalizzazioni a danno dei figli in tante separazioni. Insomma i figli non sono un bottino di guerra. I figli non sono proprietà di nessuno. Dobbiamo fare questo salto di qualità. Quando io vado all'estero mi capita spesso di fare qualche cosa anche fuori dall'Italia. Ecco dalle altre parti non esiste questo concetto di chi è il genitore migliore o peggiore. In Francia, in Inghilterra, in Svizzera, in Germania i genitori sono uguali. Anche perché verrebbe da dire adesso ci sono anche famiglie con due padri, no? Esatto, due padri, due madri. Come si fa oggi in un concetto di famiglia così variegato? Andare ancora a fare un discorso di genere o a sapere chi è meglio e chi è peggio. I figli sono di chi li cresce e non dipende dai genitali di una persona essere bravi o cattivi genitori. Santa, come si mantiene il distacco emotivo dalle storie e dalle cause che lei ha raccontato in questi libri? Ma io non dormo la notte, io molte volte non dormo la notte, io non vivo bene certe volte, a volte mi sento solo. Anche i miei libri sono scritti di notte, carta e penna, non so usare il computer anche perché dopo un'ora mi lacrimano gli occhi. Io non vivo bene la mia vita professionale come non la vivono bene tantissimi avvocati. Perché molte volte noi ci rendiamo conto che da soli non ce la facciamo, non c'è un discorso di rete e di sistema. E il giorno in cui smetterò di emozionarmi sarà la fine del mio lavoro. È un lavoro di emozione, di impegno, di solitudine. È un lavoro socialmente troppo importante per essere indifferenti. Scrivere è stato un atto liberatorio, è, continua a esserlo per lei? È un atto liberatorio perché riesco a concentrarmi sui pensieri che sono sempre più ricorrenti nella mia mente. Ricordo le facce, le persone, ricordo le tragedie, le mancate risposte in termini di giustizia. L'avvocato è veramente il sale di una società, soprattutto se è avvocato. Perché poi un conto è essere iscritti all'alba, un conto è essere avvocati e avere la toga addosso come una seconda pelle. La stragrande maggioranza degli avvocati italiani sono all'altezza della situazione. Devo dire che tante volte noi scongiuriamo tragedie. Io per esempio due volte durante il lockdown ho dovuto chiamare al telefono due mariti violenti e implorarli di stare calmi, che non era il caso di continuare con quelle barbarie. Devo dire che usando la diplomazia sono uscito a calmare certe situazioni. Quindi abbiamo anche un ruolo sociale importantissimo da questo punto di vista. E non sempre ci viene riconosciuto. Si è mai chiesto che cosa significa per lei aver scelto non di fare ma di essere avvocato? Per come lo racconta? Ma guarda, io non volevo neanche fare l'avvocato quando morì mio padre. Avevo 18 anni e volevo fare l'architetto. Poi la morte di mio padre ha cambiato il mio destino. Io ho fatto l'avvocato senza nulla a pretendere. E forse per questo qualcosa sono riuscito a fare. Perché l'ho fatto senza particolari progetti. L'ho fatto con serenità. E soprattutto poi ho scelto la materia che più si confà al mio modo di essere. Probabilmente non sarei stato un buon avvocato in altre materie. Quando usciremo da questo periodo infernale che stiamo vivendo? Secondo lei come sarà cambiata la nostra società? Quale sarà la prima emergenza sociale? Noi siamo già cambiati e cambieremo ancora di più dopo. Nelle comunicazioni, nei rapporti. Abbiamo tutti quanti paura di avvicinarci agli altri. Porteremo con noi le scorie di questa situazione per molto tempo. Siamo cambiati anche noi avvocati. Quindi anche il modo di operare, di pensare, di organizzare il proprio studio. La gente dovrà piano piano riprendersi. Perché noi siamo animali sociali, noi esseri umani. Abbiamo bisogno del contatto con gli altri. Però certamente non credo che il mondo sarà come prima. Tante solitudini purtroppo sono inemendabili. Tanta gente ha sofferto troppo. I bambini che sono rimasti a casa per mesi hanno sofferto. È chiaro che non si poteva fare altrimenti. Ma conosco molti psicologi che mi raccontano di storie incredibili di bambini che hanno subito conseguenze psicologiche veramente devastanti. Quindi i genitori devono stare molto attenti alle reazioni dei bambini, affidarsi agli psicologi, cercare di capire anche il nervosismo di molti bambini. Perché stare chiusi in casa per tanti mesi è difficilissimo. E molte delle storie che lei sta citando sono raccontate nel suo libro La guerra dei rossi che noi ricordiamo è uno spunto davvero utile in questo momento soprattutto. Grazie Giannetto Regassani per essere stato con noi a Checkpoint. Alla prossima occasione. Grazie molto. Noi ci fermiamo per qualche istante. Grazie.